Però, in tutto sommato, questa è una squadra bella viva, bella tosta. La maternana vedrete che darà pensiero a tante squadre in queste ultime partite, che si è rafforzata, ha perso i giocatori di valore, ma noi abbiamo fatto una buonissima partita. L'anno scorso tu metteste, sempre magari questa è la prima partita del calcio mercato, ha fatto praticamente la stessa cosa mettendo quasi tutti in campo. Il caso però ha anche una cosa che si capisce. Perché si sono presentati bene, perché mi hanno dato la sensazione che stavano bene. L'unico giocatore che non aveva minutaggi sulle gambe era Rovic, è un giocatore che da quando si è presentato ha mostrato grandissima passione, grandissima voglia di apprendere, di imparare, di chiedere. Si sta sempre a chiedere perché questo movimento, perché io facevo un modo diverso. Si è presentato con una grandissima mentalità, come tutti gli altri. la scelta è stata per questa. Se non erano in condizioni sicuramente non li facevano scendere in campo. Sembra che proprio sull'Andre sia cresciuto molto anche con il passare dei minuti. Poi all'inizio doveva arrivare a trovare... Io non so che campionato farà ad Andrero Hick, ma l'Andrero Hick l'ha preso una società sei mesi fa, come il Genoa. E sapete che il Genoa difficilmente sbaglia qualche straniero. Sì, ne prende tanti, ma dopo il 70-80% dei stranieri che prende li fa giocare con continuità, li rivende. Quando mi è stato proposto a me non mi pareva vero. Ho fatto una marcatura uomo, ho chiamato tantissime volte in questi giorni e pensavo che nella mia testa che potevo prendere solo del tempo, ma ci ho provato, sono stato sfacciato, devo ringraziare il Genoa che ci hanno preso in noi e penso che è un giochettore che ci può dare una grandissima mano. Come ci dici la prova di Manai? Ma in parte il rigore è sbagliato, comunque si è mosso reale, abbiamo visto già abbastanza dei meccanismi offensi in sé. Ragazzi, Manai è un ragazzo che gioca la trentena nel 97, forse è troppo, ha troppa personalità. Non c'è la tele che attacca sempre la profondità, non c'è la tele che ti fa male, perché c'ha forza, lavora molto bene, oggi ci avete in testa il rigore, ma ci sta. Il rigore, il regolista della squadra è Mannini, è stata la mia scelta. Se avete visto l'immagine, ho chiamato Mannini per dare i rigori, gli ho detto io, per dargli fiducia, perché dopo nella sua carriera... Saranno bravo. No, non è quello, è quello. È anche vero che Mannini oggi ha fatto la centesima partita. Questa settimana dovrò fare il dottore sia con Mannini che con Mannai, va bene, farò anche questo, non c'è nessun problema, l'importante è che abbiamo vinto, abbiamo anche di altro questa partita, adesso bisogna pensare alle altre partite. Al di là di Spezzi e Benevento che sono arrivati a un momento di transizione, com'è stato preparare la partita per la prima volta senza più tutto il caos che c'era intorno alla stazione che darsi sapere? Sì, sinceramente quando in questi mesi qualsiasi partita abbiamo preparata, forse non la preparavamo come volevamo noi perché tante volte ci mancano anche i giocatori, ma sull'attaccamento, sulla voglia, senza l'appartenenza, sull'attenzione io non posso dire nulla a questi ragazzi, dopo un po' normale. Adesso il problema è che ho detto prima anche al canale di 50, che siamo passati dal niente a troppo secondo me, capite che la mia preoccupazione è quella, oggi la mia più grande preoccupazione era quella, non devo conoscere, quando ieri vi ho detto in conferenza stampa che non so se abbiamo fatto le cose giuste a livello tecnico, ma a livello umano vi posso assicurare che abbiamo sbagliato un po' anche questo giro, questo posso mettere, ve lo posso mettere per iscritto, a livello tecnico non lo so perché il campo è il quale l'altro, ma a livello umano, a livello di quella rabbia, a livello dell'agonismo, a livello del senso di appartenenza, sembra che questi giocatori, e l'avete visto anche oggi come hanno giocato, e indossano questa maglia da tantissimo tempo, e questo, noi dobbiamo perdere questa componente qua secondo me, la mia preoccupazione era questa qua, mettendo qualche innesto si può perdere con lo spirito, e lo spirito in questi mesi ci ha contraddistinto, invece devo dire che per come si allentano, per come hanno giocato oggi, non posso dire nulla. a proposito del livello tecnico e di campo, Gatto ha fatto un gran gol e ha giocato con personalità in questo tempo. può fare ancora molto di più, fare molto di più, i giorni, tante volte, io vi pongo un poesito, io vi pongo un poesito, vedo poco, e non vuole, questo non è Napolet, questo è un, quello che dico deve essere una crescita sia per i miei giocatori ma anche con le persone che ci devono dare una mano, vi spiegate perché Gorubovic quando gioca da questa parte qua, tira la palla dietro, due volte in fila, dopo una mattina non gioca mai, perché sente il rumore, va dall'altra parte ed è un altro giocatore, allora se sono giocatori, 18-19 anni, se i mugugni li sente Mannini, Oli, Sunzo, chi per esso che ha 30 anni, 31 anni, è diverso, ma chi li sente da, chi ha 19-20 anni, è un po' di paura ti viene, ti viene il bracino corto, non guardi in avanti, e questa non è una polemica, questo è un qualcosa di, se possiamo crescere tutti insieme, di conoscere, ma non è bello che io mi rivolgo alla tribuna, perché li sento anch'io, è perché vedo dopo a fine primo tempo che devo discutere con i miei giocatori su degli aspetti che eviterei di parlare, dopo qualcuno mi può dire, ma quelli parlano, se gli vuoi dire come devono venire al campo o se possono fischiare, no, no, se riusciamo a creare un qualcosa di più costruttivo, se riusciamo a capire che sono giocatori, ce ne abbiamo adesso, che hanno 20 anni, 21 anni, se gli diamo invece di tirare un moccolo o di fare qualcos'altro, gli facciamo un applauso in più, sarebbe molto più facile, e questa non è una polemica, no, ma perché non è nemmeno bello, perché dopo, essendo uno sanguigno, come me, anche io dopo, quando finisce la partita, vado a rivedere quello che ho fatto, non è bello che io mi giro davanti, mi giro davanti alla tribuna e discuto con la gente, non mi piace nemmeno a me, però non lo faccio per me, a me mi possono fischiare, discutere, non capisco un cazzo di calcio, metto male e male la squadra, e il risultato è per me, però non mi piace che in questo momento, in un momento importante come siamo adesso, dobbiamo perdere tempo e discutere per altre cose, non mi piace, perché non è nemmeno bello il gesto che ho fatto io. C'è stata una parola, qualcosa in particolare? Ragazzi, ma voi state su, sentite, abbiamo fatto gli ultimi 15 minuti, sembravamo di giocare fuori casa, ma non dalla curva o da graninata, è la paura che viene, è il compitino, oggi qualcuno deve capire che giocare dietro al portiere fa parte del nostro mondo, non è perché abbiamo paura che giochiamo al portiere, perché vogliamo andare dall'altra parte, perché vogliamo fare, vogliamo sviluppare i giochi indeterminati, se a qualcuno non piace, gli spiegherò perché andiamo dietro al portiere, spiegherò anche quello. A proposito, non è una critica, tanto è la difficoltà, la prima partita dopo una paura, è molto difficile, soprattutto se diventere per forza, e la squadra si è comportata bene come ha controllato 1-0, però le partite vanno chiuse, nello chiederebbe il primo allenatore come mai non l'abbiamo chiusa, sono stati bravi la Ternana a non lasciarci più, cosa ci è mancato, anche se siamo stati bravi, perché non hanno più chiuso. No, siamo stati bravi, però, come ho detto già prima, non è torto quando dici dobbiamo chiudere, però poi il problema è quando ci abbassiamo, perché abbiamo fatto una pressione tante volte paurosa, abbiamo iniziato a fare casino, ho visto l'attaccante per altri che andava a prendere il post di Manai, Manai a largo, questa è la confusione, che non deve succedere, perché tante volte, Diego per il vertice basso, andava a fare una pressione alta, tante volte abbiamo sbagliato anche a fare pressione, perché ci abbassavamo, la linea di difesa, secondo me abbiamo fatto per 60-65 metri, stavamo sui 30 metri, dopo all'improvviso siamo allungati 50-60 metri, non sapevamo mai come uscire con la mezzala quando ci allargavano, dobbiamo migliorare su questi aspetti qua, tante volte non li chiudi perché dopo devi coprire più il campo, quando devi attaccare la profondità non ci arrivi, sei affamato, dopo si sa che noi, per come giochiamo noi, per come vedo il calcio io, i nostri attaccanti tante volte sbagliano anche perché gli chiedono una mola di lavoro importante, però questo fa parte di vedere come vedo il calcio, dobbiamo coprire il campo, però sicuramente possiamo fare qualcosa di più, per questo dobbiamo andare alla ricerca e diminuere a questo aspetto qua. Senti, a Can Giugli ha dato una certa velocità a un certo campo, un po' tutta la squadra sembrava molto più rapida. Anche se tante volte, in primo tempo mi sono arrabbiato con Gatto perché Mannini tante volte, portava a palla perché i gol di Gatto gli hanno fatto fare i Mannini, perché Mannini portava a palla, invece tante volte Mannini portava a palla, tre o quattro volte di fila Gatto gli stava dietro, e che cazzo fai dietro, mi aspetta, mi aspetta, mi aspetta io. Ma, però è la prima partita, abbiamo caricato anche tanto in questi dieci giorni, abbiamo fatto una mola di lavoro importante, sapevamo che dovevamo farla per forza perché ci serviva, perché ci è mancato quel mese che siamo stati fermi. Ma, e dopo a Giugli è un giocatore diverso da Lenni, Lenni è più muscolare, lui è uno che è già più piedi, secondo me, riesce a spostartela e a metterla anche. Sono due giocatori, oggi verde e ritornati, giocatori che si conoscete tutti, ma tutta la squadra mi è piaciuta. Pensi che, visto che parlate del lavoro che avete fatto in queste settimane, si è compensato il problema dovuto al mese di agosto con il lavoro che avete fatto adesso? Una base, secondo me, una base importante l'abbiamo messa sulle gambe, ci mancava. Anche è vero che per come lavoriamo, siamo una squadra che lavoriamo tanto, la della settimana, e spendono anche tanto, la della settimana, ma ci mancava, siamo andata alla ricerca di quello che ci mancava, speriamo di non aver fatto i danni, ma se abbiamo fatto i danni la colpa sarà mia. E poi, di Sabanelli in panchina, quindi a che punto è? Taba è un giocatore che ci ha sorpreso anche noi, è un giocatore che entra in condizione subito perché non c'ha un filo di grasso, pesa 20 kg e fa correre la palla, è normale che ancora non sta benissimo, però è un giocatore che in questi 10-12 giorni ci ha sorpreso e si sente anche, dopo ha un'importanza all'interno dello spogliatore, è un giocatore che non è di là delle docche tecniche del giocatore che era, ma porta allegria, porta grandissima allegria e tante volte è molto molto importante questo aspetto qua, ma non l'ho portato in panchina perché è un giocatore forte, è un giocatore che sa giocare, secondo me ci può dare una grandissima mano. Avogadri è tornato, si è colato fuori, è tornato e speriamo di averlo in gruppo la settimana prossima. Il giudizio ha già accennato, non il giudizio sulla prestazione lì, però. Ragazzi Diego, non mi fa arrabbiare perché devo fare anche belle cose, ma perché mi aspetto io di più da Diego, che è un giocatore importante, oggi si è accentrato un paio di volte, mi aspettavo a tirare la sua mantonella sul pallo lungo e invece dobbiamo migliorare su questo aspetto qua, di che si deve assumere qualche responsabilità in più. Ancora deve capire che lui deve, quando stoppa la palla, orientare in avanti, un giocatore che ti fa male quando viene in avanti, invece oggi abbiamo preso 3-4 palloni là, centro-campo, abbiamo preso 3-4 ripartenze perché la lettura della giocata non è stata coperta e queste sono queste cose che mi fanno aggambiare. però vedere Diego che va con Diakite a combattere, questo a me mi riempie di orgoglio, di gioia perché ha capito come si deve giocare, sicuramente deve sbattare meno perché ha la capacità per sbattare meno. Grazie Grazie